quali sono i cambiamenti che hai fatto da quando non ci sono sentiti cosa è rimasto cosa invece è cambiato dammi un po' di informazioni sicuramente rispetto allo scorso anno è cambiato il fatturato ok, sono al momento a 63.000 considera che lo scorso anno per tutto l'anno ero arrivato a 40 per cui il fatturato è sicuramente cambiato ho sfruttato la questione delega come dicevo al telefono per togliermi le parti del lavoro più comunque diciamo noiose e su queste praticamente dopo un primo periodo di di rodaggio dove comunque serve un po' di diciamo di assistenza adesso mi prende pochissimo tempo e posso dedicarmi ad altre cose quanto hai risparmiato come tempo al livello si desidera una percentuale ma direi almeno un giorno a settimana fondamentalmente che è tantissimo rispetto allo scorso anno diciamo è un 20% del tuo tempo si mettiamo otto ore settimanali sicuramente quindi otto ore di risparmio siamo a 20.000 euro in più confronto al fatturato di un anno dell'anno scorso fatto in 10 mesi quindi tu pensi che possiamo arrivare a quanto? dovrei comunque allora sicuramente passerò i 70 perché sono tutti già diciamo pagamenti che devono arrivare più o meno pianificati spero di arrivare agli 80 ok quindi l'obbligazione del fatturato lavorando un 20% in meno si è